a io posso darlo corri corriamo però Coltiti qua, porta ... No, 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 no! Ti dobbiamo... ... ... dal codice dalla cassaforte si ho sentito si si comenta 300 secondi vabbè dai come sono messi quindi tutti qua la linea no giacolo si però no se fanno male e come vuoi avanti? dobbiamo andare pure qualcuno di la chi è andato? a me dai attirate il fuoco per favore vediamo 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 come si chiama non c'è nessuno ah io ti do copertura ma da qua sei libero avanzamo eh ma io ti do copertura vai è buona? occhio a destra eh oh dietro questo angolo dito questo angolo ok 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 vai 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 quello la morto occhio più 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 chi non mezzo alle pratte si chiudo spara marco mezz'ala di fratte occhio un cecchino ok 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 c'è chi non mezzo ai pratti buona 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 avrò sette volte le piante sopra chi dove l'avanziamo qua sotto ma attenzione rega sentite sparare ah 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 Quanto manca? Quanto manca? Quanto manca? Quanto manca? Di a Giacomo che ha fatto fuori quello sotto al muro? Di a Giacomo che ha fatto fuori quello sotto al muro? Di a Giacomo che ha fatto fuori quello sotto al muro? Occhio, 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 occhio! C'è uno del trapinello! Se metterli così, se metterli così! Avanzo! Sopra ci metto io, vai! Aspetta! Sopra, sopra, copri meglio! Sì! Vai, vai, vai! Vai te copri, eh! Preso, preso! Preso! Sopra mi tre minuti, gialla. Tre minuti, tra minuti, tre minuti! 3 minuti, 3 minuti. Regate la... della difesa, piano e gioco. La scatina è qui si è trattato, ma la scatina è qui. La scatina è iniziata a fare un po' di più. La scatina è iniziata a fare un po' di più. La scatina è iniziata a fare un po' di più di più. Grazie a tutti Vengo, vengo, non ti vengono, non ti vengono, non ti vengono, ti vengono. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri... Corri, corri, corri... Andiamo a perso! Primo piano! Ho un bandita già, sono a piedi la via. Sono a piedi la via. Sono a piedi la via. Sono sopra, sono a piedi la via. Non c'è, perciò. Pagano, non c'è! Pagano, non c'è! Pagano, sono a piedi la via. Ci sono a piedi! Ci sono a piedi la via. Ci sono a piedi la via. E' un po' di rinco. La via. Giacomo! Preta, preta! E' presa! C'è in sé, regà!